Novena di Pentecoste, nono giorno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della Tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono dell'Altissimo Padre, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima, dito della mano di Dio promesso dal Salvatore. Irradi i Tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore. Sana le nostre ferite col balsamo del Tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace. La Tua guida è invincibile, ci preservi dal male. Luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio che è risorto dai morti e allo Spirito Santo per tutti secoli dei secoli. Amen. Nono giorno. Giustificate dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E non solo questo. Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza una virtù provata. La virtù provata la speranza. La speranza poi non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Amen. Supplica, o Santo Divino Spirito, amore eterno del Padre e del Figlio, nostro Dio e Santificatore, noi Ti adoriamo e Ti ringraziamo per la Tua presenza nel mondo, nella Chiesa, nella Chiesa, in noi. Ti domandiamo perdono per tutte le volte che Ti abbiamo contristato in noi e nel prossimo. Per tutte le volte che abbiamo fatto resistenza alla Tua soavissima azione in noi e negli altri. Scendi ancora, Spirito, come nel giorno di Pentecoste. Scendi, fonte di grazia, sui vescovi e sui sacerdoti. Scendi, sorgente di santità, sui religiosi. Scendi, sigillo di vita nuova, su tutti i fedeli. Scendi, balsamo di misericordia, sui peccatori. Scendi, luce di verità, su tutti gli uomini. Scendi, dal cuore della Trinità, per intercessione della Vergine Maria, e vieni in noi. Vieni, Spirito di Sapienza, distaccaci dalle cose della terra e donaci il desiderio e il gusto delle cose del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, oh Signore, il tuo Spirito per l'intercessione di Maria. Vieni, Spirito di intelletto, rischiare la nostra mente con la luce dell'eterna verità e riempila di santi pensieri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, oh Signore, il tuo Spirito per l'intercessione di Maria. Vieni, Spirito di consiglio, rendici docili alle tue ispirazioni e guidaci nella via della salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, oh Signore, il tuo Spirito per l'intercessione di Maria. Vieni, Spirito Santo, e donaci energia e costanza nella pratica del bene e nella lotta contro il male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, oh Signore, il tuo Spirito per l'intercessione di Maria. Vieni, Spirito di scienza, svelaci segreti di Dio, apri la nostra mente alla contemplazione del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, oh Signore, il tuo Spirito per l'intercessione di Maria. Vieni, Spirito di pietà, insegnaci a pregare, imbadi e purifica i nostri sensi e i nostri affetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, oh Signore, il tuo Spirito per l'intercessione di Maria. Vieni, Spirito del Santo Timore, ispiraci a pregare. Ispiraci l'orrore del peccato e il desiderio di piacere a Dio solo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Manda, oh Signore, il tuo Spirito per l'intercessione di Maria. Preghiamo, oh Dio nostro Padre, che per mezzo del tuo Figlio hai mandato alla tua Chiesa lo Spirito Santo per guidarla, confermarla e sostenerla. E fondi anche su di noi i tuoi santi doni, affinché, così corroborati, camminiamo gioiosamente sulla via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.